Musica Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo secondo episodio della trilogia delle figlie di Lerion Allora ragazzi, nello scorso episodio abbiamo fatto fuori la prima strega Quest'oggi siamo anche a potenza massima Quindi andremo senza paura a sconfiggere anche la seconda strega Ora mi trovo a Rivenstorp, ovvero al nostro villaggio perché voglio fare un po' di rifornimento di razioni e di adrenalina Non so se sono al massimo o meno ma comunque, visto che siamo qua, proviamo a vedere se ci manca qualcosa Non sono al massimo Sia di adrenalina che di razioni Ah, easy allora, allora a posto, allora a posto Quindi a questo punto vediamo un attimo se possiamo fare qualcosa Perché come livello talenti siamo al massimo Possiamo soltanto sbloccare punti maestria Quando facciamo un livello sblocchiamo punti maestria La potenza abbiamo già al massimo Abilità, cosa ho sbloccato? Ah, un altro libro che era questo qua che ci interessa fino a un certo punto Allora, voglio vedere se posso potenziare almeno le armi a questo punto Perché visto che siamo al massimo vediamo un po' se possiamo fare E infatti, possiamo intanto potenziarci la maschera Il tempo di covid la maschera va sempre potenziata La maschera potente Sempre meglio Potenziamoci anche gli abiti Finché possiamo Mi sa che lo portiamo al massimo Buono Praticamente l'armatura degli occulti è quasi al massimo Anzi forse riusciamo anche con la maschera È al massimo ragazzi Al massimo l'armatura degli occulti Wow, yeah, 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 yeah Per quanto riguarda le armi voglio vedere se posso sbloccare almeno il livello quello massimo Con il tungsteno che ho raccolto durante le ultime missioni Parliamo col fabbro Potenziamo le armi Qualora possiamo Poi andiamo direttamente dalla seconda figlia di Lerion Posso potenziare L'ascio di Varin La portiamo al massimo Livello eccezionale Adesso sì che ci siamo Adesso possiamo andare oltre E potenziamoci anche l'artiglio di Sutungur Che è un'arma, dovrebbe essere un'arma degli assassini Ed è forte, mi piace Venone Abbiamo un equipaggiamento eccellente Possiamo forse provvedere ancora nell'upgrade Tramite ferro Nel nostro inventario Vediamo un po' se posso No, non posso Non posso andare avanti Aspetta, forse anche l'arco potevo aumentare però Facciamolo, facciamolo Andiamo direttamente al massimo Perché comunque Anche se Lo scorso video era comunque a 380 giudili di potenza Però era abbastanza difficile comunque Non è stata semplice e semplice Anche perché sono morto ancora una volta se vi ricordate Adesso con un equipaggiamento totalmente eccellente Ma non ancora al massimo Possiamo tenere testa ancora di più Ora devo andare Quindi Andiamo a vedere quali sono le due che ci mancano Allora, la scorsa volta abbiamo fatto fuori quella del fuoco Se non vado errato Quindi questa volta Acquitrini di spalda suppongo che sia dell'elemento acqua Mentre Pantano di Berklov dovrebbe essere quella del tuono Che io già la conosco Quindi direi di andare da questa qui Che ci ho fatto una partita tempo fa Ma non era ancora all'altezza Quindi Adesso avrò la mia vendetta, spero Torniamo da lei La conosco in parte Quindi potrebbe essere già più easy La terza ancora non so che sia Ma la faremo nel prossimo episodio E concluderemo la trilogia Quanto odio quando piove in questo gioco veramente E' fastidioso, è fastidioso Allora, chiama il nostro cavallino Il nostro cavallo fiero Di nome di fatto, si chiama Vero Piero Si chiama E andiamo verso la nostra metà Allora, che cavallo ho potenziato al massimo, eh Credo sia il primo capitolo della storia di Assassin's Creed Dove possiamo potenziare un cavallo che addirittura nuota E' fantastico, ragazzi Posso rimanere il cavallo del mio cavallo Cavallo, in sala del mio cavallo, forse è meglio dire Anche nei fiumi, nel mare E' fantastico, è fortissimo Allora, siamo arrivati Ah, posso anche prendere un'armatura? Ah, è lontano Allora, togliamoci anche Il mantello Vediamo un po' Sì, è proprio lei Una delle prime Allora, abbiamo un po' di reazione in giro Va bene Dai, vediamo un po' Che condizione ha lasciato questo povero Cristo Oh mio Dio Mummificato proprio Dai Già c'era qualcuno Eccoci Cordelia Non conosco l'uomo Eventualmente muo il volume Perché ho bisogno di sentire anche i suoni Per evitare i colpi Hanno i due Cordelia La prima volta è andata male per me Ma questa volta spero Che l'azione si sia ribaltata Proviamo La prima volta arrivo subito Nermoso Dio sì Bestia Allora, devo cominciare anche a conoscere i suoi attacchi A quelli che posso evitare Quelli che posso contraattaccare Questi non posso Questo sì però Yeah Però se la colpissi Forse è meglio Ok Buono Ragazzi Forse Forse è anche più facile dell'altra Però vi ricordo che una volta arrivata a metà vita Cambia Tattica Proprio Cambia Tecnica Io ci provo Colpo a se stante In questo modo Ok Se riesco a buttare le giovanze Aia Un po' di adrenalina Così Aia Cordelia Cordelia De Mon No, non era Non era lei E questo ragazzi fa male E' un po' fastidioso Ero un piccolino Dai così Ci siamo eh Eccoci Via dal cerchio Via dal cerchio Ci siamo La seconda parte comincia adesso Qui dove Sono morto La volta scorsa Ma c'ha le C'ha le tette di fuori Spero che YouTube Non se ne renda conto Visto che Sono un po' nascoste Non mi Nasconde il video Oddio Guarda come Saltiamo per aria ora Visto che Mi da C'ha il colpo di tono Spero mi dia Mjolnir Oddio Ce lo vedi Un colpo Mi mette fuori Un battimento Subito E' difficile Sembra Facile Facciamo Un punto debole Aspetta Sembra abbia un punto debole Dietro la schiena Aia Così 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 No Scappata Ah non l'ho presa Buono Buono Cordelia Ti taglio Aia No 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 E' fulmino E' fulmino Io penso Un fulmine di questo Ia 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 Arriva 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 Ia c'è Uh No Potevo fare E' stato un pirla Mannaggia Ho sbagliato Potevo fare l'attacco Sto orrente Levavo un sacco Di HP Ragazzi Comunque Ora non so se è easy Perché E' easy Ma probabilmente lo è anche perché Sono molto più forte rispetto allo scorso incontro Io non credo sia una più forte dell'altra Penso che comunque Ognuno ha più o meno Uno stesso grado di Di difficoltà Di queste tre Figlie dell'Aerion Sono semplicemente più forte io Tutto qui Ci siamo eh Easy Guarda da me muoio ora Guarda da me muoio ora Da ultimo eh Di nuovo Vai Nel mezzo alla tempesta Oh non mi ha ancora preso Il fulmine Mi toglie un sacco di Fartisti Mi prendo un po' Oh no 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 It's over Dove sei? Guanti di Thor Scomparso Yeah Abbiamo tre parti Dell'armatura di Thor Credo Abbiamo fatto anche un livello Quindi abbiamo un livello maestria Che metterò Attacche a distanza Maestria del lupo Andiamo a un punto maestria qua Allora Abbiamo se non sbaglio Il mantello di Thor K di Thor Ce l'abbiamo Ottimo Quindi uno Ce l'abbiamo Poi Qui abbiamo anche la corazza di Thor Quindi due Su cinque La maschera Non credo ancora Mentore Teina Brigantina No Ci manca la maschera O comunque un elmo I parabracci L'abbiamo preso adesso Eccoli qua Parabracci del No Eccoli qua No dove sono? Oh Guanti di Thor Eccoli qua Buono Ci manca ragazzuoli I calzoni Mentore Corvo Occulti Maestro Brigantina Schiavo Ok ci mancano due La maschera O elmo Quello che sarà E I calzoni Prossimo episodio Concluderemo la trilogia Delle figlie di Lerion Andremo a combattere Contro l'ultima figlia Questa qua Dove sta? Eccola qua Acquetrine di spalda Dopodiché C'è da andare Qui E credo sia Appunto Proprio questa qui L'armatura Che passerò Da qua Per andare Dentro la grotta Dove Sbloccheremo Tramite tre aliqui Penso che a questo punto Siamo le tre aliqui Ci danno loro Non lo so a questo punto Sbloccare il tesoro Delle figlie di Lerion Che potrebbe essere Veramente qualcosa Interessante Non lo so Non mi vuole spoilerare nulla Ancora non so niente Però Prossimo episodio Lo scopriremo Perché andremo a sconfiggere L'ultima figlia Di Lerion Questo video È durato Veramente poco Con confronto allo scorso Forse farò anche Meno tagli Del solito Comunque vabbè È stata veramente Easy Questa battaglia Veramente easy A livelli Ovviamente facili Vabbè ragazzi Io concludo Anche questo video Ci vediamo Nel prossimo Con la terza Figlia di Lerion Al prossimo video Ragazzi Anzi mi sono anche Il corno In segno di vittoria 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 Grazie a tutti.